Salve ragazzi, benvenuti nel mio canale, oggi ragazzi come potete ben vedere non siamo in nessuna delle nostre serie in realtà, ma siamo nella mappa Felsbrun, siamo nella mappa Felsbrun, nel server di un ragazzo, di una mia nuova collaborazione che salutiamo, Ricky Farmer, ciao Ricky Buon pomeriggio Cribbio, buonasera, buonasera, benvenuti, sono qui con voi Abbiamo Silvio Berlusconi, raga abbiamo, abbiamo il premio Silvio Berlusconi in regia, premio Cribbio, insomma, voglio dire grazie per l'invito, anche se sono stato io a invitarci per il primo Esatto Ma va bene così, già io non posso Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Simulator for Life Nella mappa Felsbrun, ovviamente nel suo server, stavamo facendo il suo video e mi sono intrufolato e anche io ho fatto il mio Oggi stiamo trinciando Bice, però volevo sinceramente, se voglia, fare una piccola presentazione su di te No dai, allora, come ha fatto lui sul mio canale, sta facendo anche questa roba quindi cercherò di essere il più breve Sì sì, proprio brevissimo Breve e molto diretto Vabbè, il mio canale è un canale come il suo, ovvero inizialmente era partito per non portare nessun tipo di simulatore ma l'abbiamo aperto ancora nel lontano 6 luglio 2015 Purca Per cui è abbastanza vecchiotto E infatti io certe volte vedere gente che inizia up il canale a gennaio e magari a luglio, già i miei iscritti, mi inizia nel nervoso Allora non parlo, allora non parlo Perché lì è il merito di chi è iniziato, perché io logicamente ho iniziato con un portatile e facendo quello che faceva poi, logicamente avevo iniziato quando avevo 15 anni, più o meno, no 14 scusa perché sì, 14 anni E la maturità sia della persona che anche magari alcune cose non avevo voglia, ecco, di farle Quindi tante volte facevo video a cazzo E anche magari che se adesso riguardo dicono come cavolo faccio fare quei video Cioè, a volte mi vergogno Però, vabbè, tutti devono iniziare da un punto, nessuno è un altro maestro Esatto Infatti, inizialmente appunto, stavo dicendo, non si doveva portare nessun tipo di simulatore Perché il canale aveva aperto, io e mio fratello volevamo portare i vlog, roba del genere, roba che si vedeva, che andava molto su YouTube Italia all'epoca In quel periodo lì, sì, certo In quel periodo lì, sì Però, poi io ho cambiato idea, poi lui non ha più voluto voglia di portare appunto, di fare i video, quindi li posimano io Ed è nato tutto per scherzo E ho portato i primi video della... Ancora si parla di FS, è Farming Simulator 2015 Esatto La storia E ho iniziato con la serie scandinava, che c'è la mappa, che ora non mi ricordo il nome E ho iniziato lì, una roba è l'altra Poi, diciamo che mi sono sempre distinto per fare serie nuove e magari anche perderci tempo a pensarci Infatti, la mia prima serie portata sul canale era la Old Farm Ah, bella Quindi, la serie che dovevi partire, più che altro dovuta anche al fatto che per FS15, cioè FS15 Erano usciti, era uscito un DLC Old Quindi ho detto, perché non ci fai una serie in cui parti con quei mezzi lì, poi ti migliori pian piano E' quello che ho fatto, e sul 15 poi è andato un po' a morire Però, andato avanti un pochino, poi non l'ho più portata Forse anche e soprattutto perché era uscito FS17 E da lì poi l'ho portata su FS17 e c'è anche tuttora su FS19 Magari ha un po' perso quel che è partire a mezzi old e andare verso il top Perché non sono più usciti dei sì old, nel senso, come quello che ha c'è al 15 E più che altro, mi pare che forse sia stato convertito Però ho detto, vabbè, iniziamo con mezzi più piccoli possibili E poi basta, si va avanti così E quindi quella è stata una serie che mi ha aiutato molto anche a crescere Poi, logicamente, andando avanti con gli anni Ho cercato sempre di migliorarmi sempre di più Anche migliorano la qualità, ad esempio, dell'audio Comprando un mio microfono Che prima avevo le cuffie con il micro, con la stanghietta che usciva Che, per quanto possa andar bene, non ha la stessa cosa che ha un microfono Non ci sono partito con quello, sinceramente Ma penso che tutti siano partiti con la roba là Non è andato tanto bene Infatti il microfono, quello che sto usando adesso, avrà uno netto, più o meno Poi è arrivato il computer nuovo È arrivato il monitor, è arrivato tutte cose che Pian piano sto cercando anche da tutt'ora di migliorare Quindi ho cambiato l'SSD, vorrei cambiare la scheda video Tutto per fare quel passo scatto in più Per arrivare a una qualità migliore Qualità migliore che, in conseguenza, porta anche iscritti e visualizzazioni Che non nascondiamoci Se tu inizi una carriera Se tu inizi a aprire un canale su YouTube Lo apri perché vuoi puntare ad avere iscritti e visualizzazioni È ovvio, è ovvio la cosa Perché per chi dice di no, mi dispiace dirlo, ma è un po' ipocresia Diciamo Piccolo, volevo essere breve, invece mi sono dinogato peggio Non so cosa, però bella per me E quando inizio a parlare, sono un po' così Inizio a parlare, non mi fermo più Meglio, meglio, meglio Meglio, meglio Vabbè, nel mio canale porto Come magari si, non so, si lascerà nelle schede In qualche parte Nel mio canale Porto comunque agricoltura Che siano video di farming Ma anche video di agricoltura reale Cosa che Non molti YouTuber di farming portano Ovvero, c'è gente che porta solo video di farming E di agricoltura reale Non si dica a nessuno Cioè, non si dica a nessuno Non interessa Però è una cosa che Secondo me Deve essere cambiata Cioè, se tu porti agricoltura Che è uguale a portarla sia simulata Che reale Anzi, reale Sto, ho notato che Va di più anche Va di più Per il semplice fatto che Piccolo Dio Va di più Calma Anche lì dipende dal contenuto che porti Perché se porti il contenuto Che fa visual In qualsiasi caso Se tu Fai Video di Trinciature del mais Quindi insilato Trebiature Roba del genere Vedi che i video andarono bene Se tu inizi a portare Aratura Fresatura A modo che non si sono fatti da Dio La gente non si dica Perché non gli interessa Oppure può andar bene Però Capita Raramente E appunto Diciamo che Come avevo detto prima Anche negli anni a venire Dopo la Old Farm Sì Mi sono sempre distinto Per serie Nuove E mai viste Su Youtube Italia Perché tipo La serie Recitata Ci è vista in giro Quindi da là Ovviamente uno prende l'idea Però A parte la recitazione Come fare la serie Non si è mai vista Esempio La The Force Farm Io ti sfido A trovare su Youtube Italia Un altro Youtuber Che porta Una serie come questa Beh Sono in breve Quattro farm Nella stessa mappa E ognuno fa Quello che Fa qualcosa Che le altre farm Non hanno Quindi una serie Tipo Azienda Azienda Delle zone Della Della padana Nel senso Che vanno In uno Va in cerca Non anche una in cerca Però va tipo Da contro terzi All'altro Ok Tipo una serie Cooperativa Diciamo Più o meno Sì Una serie cooperativa Sì Una Quella Che sto portando Io sulla Mini Bruni Insieme A Stan 84 La mia collaborazione La mia collaborazione Primaria Diciamo L'idea L'ho avuta Io però Anche gli altri Hanno dato una mano Perché l'idea Può avere una persona Però senza Un tot di persona L'aiuto Non aveva mai fatto tutto Anche se devo dirti la verità Quest'idea Ce l'avevo Da diversi anni E che non avevo più Non sapevo come Farla Vabbè Non mi sveglio nient'altro Andate a vedere Il suo canale Scusa lo sponsor No no Anzi Anzi Vi ricordo raga Che in descrizione Ovviamente Potete trovare il link Diretto per il suo canale E se vi va Ovviamente Andatevi ad iscrivere Perché davvero Merita moltissimo E un'altra serie Che uscirà Fra poco È la Top Farmer Interview Lunedì È uscito un video Sul mio canale In cui Io e l'altro Persona a cui collaboro Per le sue serie Andiamo a spiegare La nuova serie Che vi ho appena detto Quello La Top Farmer Interview Che consiste Nell'andare Ad intervistare Fare una vera Propriamente intervista Logicamente Giocando In game Portando un gameplay Normale Però Uniamo Il gameplay All'intervista Ma faremo un giro Di tutti i top Si chiama Top Farmer Interview A posto Per questo Cercheremo Di rivistare Il più Modder E youtuber Possibili D'Italia Lunedì Lunedì È uscito il video In cui andremo A spiegare La serie La spiegazione E Oltre alla spiegazione Ci saranno Come idea L'ho rappresentato così 12 domande Sì Di cui le prime Le prime otto Le faremo noi Io E l'altro Ragazzo Sì Le ultime quattro Le verranno Estatte O scelte Tra Coloro Che mi seguono Sì su Instagram Che su YouTube Ah che bello Quindi le domande Le faranno loro Poi noi Sceglieremo Le quattro migliori Le inseriremo Tra le nostre E che quindi Potranno farle Bellissimo Quindi raga È anche Un'opportunità Per voi Per poter partecipare A questa intervista Chiedere qualcosa Che avreste sempre Voluto chiedere Magari Ovviamente Andate anche A seguire La sua pagina Instagram Vi lascio anche lì Il link Ve lo lascio sempre In descrizione Così almeno Potrebbe diventare Una cosa Anche un po' Un po' Carina Per voi Ecco Insomma Logicamente Gli ultimi Quattro Che verranno Cioè Che faranno La domanda Verranno anche Citati nel video Quindi mettere Un po' Poi uscirà Da qualche parte Nel video Esempio Rossi Pino Rossi Ha chiesto Esce la domanda Easy Come può essere C'è su YouTube Cioè Uno può farla Nei commenti Come farla Quindi metteremo Sia io Che l'altro ragazzo Nelle storie Il box delle domande E ognuno farà La domanda Che vuole Io però Vorrei Se posso Dire la Più grande novità Che Per quanto riguarda Il mio canale Quindi noi La nostra piccola comunità Sono entrato Gentilmente Riky Che diciamo Tra virgolette Il presidente Della Diabolix Qui io Sono io Il presidente E mi consente Sentitelo Sentitelo E un buon cavaliere Della Diabolix Modder Team Che è Un team Di modder Italiani Ovviamente Stiamo iniziando Sicuramente Lo conoscerà Altri no Perché comunque È nato Da quello che so Da non molto tempo Alla fine No Come da C'è anche un profilo Instagram Della pagina E come è andato Messo il 5 ottobre Da pochissimo Da pochissimo Però qualche mod Già È uscita Quindi Qualche mod È uscita Appunto Quella che Ho usato io Fino adesso Con il Tecnosima Eh questo qua È vero Raga Questo Questo caro qua È uscito Ecco Sempre che non vado a sbagliare Contro i pali È uscita È una delle loro mod Creata Appunto Da questo Da questo team E gentilmente Enrique mi ha chiesto Di far parte Come test modder E presentatore Delle nuove uscite Per quanto riguarda Questo team Quindi D'ora in avanti Vedrete anche Per tutti i colori Sono stati molti Che me l'avete chiesto Di iniziare a portare I test mod Ecco Mi inizierò a portare Anche I test mod E ne sono Assolutamente Molto Molto felice Quindi Aspettatevi ovviamente Poi Da questo video in avanti Sicuramente Aspettatevi Delle mod Che presenterò Sicuramente Ragazzi Spero che Questa nuova collaborazione Vi ispiri Come ha ispirato me A chiedere Alle Alle di Collaborare E quindi Di Anche sotto un certo punto di vista Dei aiutare a crescere Anche se penso Sarà il contrario Sinceramente Ma chissà Anche per quanto Per quanto poco Ho paura Che sia così Però Vedremo Spero sarà Che bella collaborazione Cribio Ci mancherebbe altro Su me Dai Poi ragazzi Con un personaggio Così influente Importante All'interno della politica italiana Cioè Non potete Non potete sicuramente Non apprezzare Ecco Oltre La serietà In certi video Bisogna portare Un po' di comicità Esatto Perché Sennò Non va avanti Sennò Ok Cosa mi fai fare Caricare le tamme Con il mani di tu Ovviamente Raga Questa Non credo Sarà una serie Sul mio canale Cioè Questo è solamente Un video Di presentazione Per la nuova collaborazione Che Iniziamo a fare Che inizieremo a fare Piazzati sotto Anche qua Adesso arriva Le tamme Vediamo se già ci va Perfetto Guarda qua che roba Va dal negozio A ritirare Iniziamo a spargere Iniziamo a spargere Per le tame Guardate che bello Raga Questo è praticamente Lo stesso Lo stesso carro Che abbiamo visto prima Per scaricare La pula Ma Nella versione Spandi Concime Spandi Concime Guardate che bello Che è Bellissimo Se vi interessa Questo carro Raga Ovviamente Creato Dal nostro team Adesso posso dirlo Mi lascio il link In descrizione Così Se vi va di scaricarlo Darci un'occhiata Provarlo Insomma Hola Finalmente Oh c'è stato tutto Tutto 98% Vediamo se arriviamo A 100 Ma non credo No Ti stupirò 100% Ce ne erano 55.000 litri Giusti Giusti Guardate che bello 12 km orari Di lavorazione Bellissimo Bellissimo Guardate anche L'animazione Guardate quanto è bella Stupendo Veramente Se forse il John Deere Fa una leggera fatica Eh Però Devo concimare altro? Tutti quanti Devo concimare Allora ce ne abbiamo qui Ragate a fare Ancora Però Il problema È che Non L'etam È finito Eh ma io C'ho ancora Il 53% Eh Ah Bene Allora 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 vai Dove ti porto il vento Vado dove mi porto il vento Beh vado a dare un'occhiettina però Ma tu hai Una domanda un po' Strana Perché In questo periodo Lo sai È uscito la precision farming Chi è amante Chi La odia Chi l'ama Tu da che parte stai? Io devo ancora provarla La devi ancora provare? Ah Sì Non ho Non ho Non ho ancora Non ho ancora Non ho fatto niente Però Mi Mi piacerebbe provarla Quello sì Ah Strano Non avevo mai ancora sentito Nessuno che non Non aveva ancora provato La La mappa Ecco La mappa Scusa La mod Sei uno che pretende Tutte le cose perfette Al minimo O Devono essere Impeccabili No dai scherzo Ma è un camion No perché a volte Qualche striscia Sendo che non ho mai Se qualche striscia Mi scappa Buon comunque Io ho terminato Il concime Stavo per finire L'ultima passata Non sono neanche Riuscito a finirla Non ce n'è più Vero concime? Ancora un po' In teoria 800 litri Nella base del genere Beh Forse dovrebbero bastarmi In teoria Buon niente Comunque un pezzetto È rimasto Ah beh Fa un cuore Pace Eh oh Purtroppo Non Non ho più Materiali C'è stella V Ovviamente raga Nel frattempo Che vado a Consegnare in farm Lo span di concime Vi ricordo che in descrizione Potete trovare i miei link utili Ho preso il link Delle donazioni Se volete fare un piccolo supporto Al canale Ho preso il link Per comparare questo Ma anche tanti altri giochi scontati E ovviamente Il link diretto Per il canale di Ricky E il link Per questo bellissimo Span di concime Barra Cassone da raccolto Diciamo Trovate tutto in descrizione E mi raccomando Andateci a dare un occhio Le mie Le mie robine Ve l'ho dette Spero di avervi fatto contenti Con questa nuova Collaborazione In primis Ma anche Con questa nuova Diciamo Avventura Che intraprenderemo Bene Io Ricky ti ringrazio Ovviamente Ti saluto Grazie Ti saluto E ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazzi Ciao Ricky Ciao a tutti Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.